Le donne, predilette dal coronavirus nel contagio, sono state quelle che più degli uomini hanno saputo resistergli e superarlo. Tuttavia, a causa della pandemia, la condizione delle donne nel mondo del lavoro è fortemente peggiorata, fino a far diventare le lavoratrici le più sacrificabili e sacrificate. Infatti, quando si è trattato di decidere nelle case degli italiani all'interno della coppia chi dovesse restare a casa a prendersi cura dei figli e delle persone con disabilità, non ci sono stati dubbi. Le donne sono state le prime ad essere scelte per smart working, cassa integrazione o licenziate non appena possibile. Quest'anno, dunque, l'ANMI l'ha voluto rendere omaggio alle donne che hanno continuato a lavorare per contribuire a resistere in questa pandemia, dedicando loro un progetto in grado di guardare attraverso i loro occhi il significato e i risvolti di una malattia che nel 2020, stando ai dati INAIL relativi ai contagi Covid legati all'attività lavorativa, ha colpito in totale nel nostro paese 131.000 lavoratori, di cui 91.000 donne, il 70% e 40.000 uomini, il 30%, e ne sono deceduti 423, di cui 71 donne, il 17% e 352 uomini. Il 70% dei contagiati sono donne, quindi anche le donne si infortunano, anche le donne subiscono infortuni sul lavoro ed è giusto parlarne. Purtroppo è un tema che si tratta molto poco e invece è molto presente. La pandemia da Covid ha colpito molto duramente soprattutto il nord del paese, dove nel 2020 si sono registrati oltre 68.000 infortuni femminili, pari a circa il 75% del totale nazionale. La regione con il più alto numero di infortuni femminili in assoluto è la Lombardia, con quasi 27.000 casi e quasi il 30% del totale nazionale. Per quanto riguarda il Covid parliamo sicuramente di sanità, di scuola, di tutto ciò che le donne aiutano, portano avanti. Quindi ricordiamo che il lavoro femminile è anche a casa, quindi è importante. Lavoratrici contro Covid, 8 storie di resilienza per l'8 marzo, è il titolo del progetto multimediale dedicato al tema degli infortuni sul lavoro ai tempi del Covid, con un focus specifico sulle donne lavoratrici. Un'iniziativa per dare un volto e una voce a questi numeri attraverso la selezione di 8 storie di donne lavoratrici nei diversi settori produttivi. Servizi sanitarie e sociali, commercio e artigianato, pubblica amministrazione, mondo scolastico e universitario. Tutte le donne che hanno accettato di raccontare la propria battaglia contro il Covid portano ancora i segni fisici e morali della malattia. Uno è il filo conduttore delle 8 storie, prima e dopo il virus niente è più rimasto uguale. Speriamo che si possa arrivare al punto di poter lavorare in sicurezza, rispettando sempre tutte le norme, tutti i protocolli che ci vengono dati. So che a volte possono sembrare pesanti ma servono a noi per salvare la nostra vita. Ritengo che debba esserci un giusto riconoscimento del lavoro delle donne. Ricordiamo che le donne sono figlie, mamme, mogli e lavoratrici e quindi a loro è doveroso portare rispetto e quindi speriamo che se ne facciano male sempre il meno possibile. Lavoratrici contro Covid, 8 storie di resilienza per l'8 marzo si può vedere sul sito Anmil www.anmil.it mentre sul canale Anmil Youtube è possibile anche rivedere l'intera iniziativa.